E' morto nella sua Talamona, paese dove era molto conosciuto e stimato, vittima di un infortunio. Sandro Gusmeroli, artigiano di 55 anni, titolare dell'omonima impresa edile, era uomo dedito al lavoro e alla famiglia, lascia la moglie e un figlio. Stamattina si trovava in località Serterio, frazione talamonesi e poco distante dal colono del Tartano. Era impegnato, con altre ditte, alla costruzione di una villetta bifamiliare che si trova su Via Latteria. Verso le 8, durante il sollevamento di alcuni pesanti manufatti, si è consumata la tragedia. Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, l'artigiano di Talamona è stato colpito da una gru collocata su un camion che lui stesso stava azionando, utilizzando una consola. Purtroppo il braccio meccanico l'ha colpito la testa. Gravissime lesioni riportate, vani i tentativi di straparola morte messi in atto dall'equip medica. L'uomo si è spento sul luogo dell'incidente. Sulla dinamica esatta e sulle cause sono in corso le indagini curate dai carabinieri di Morbegno intervenuti tempestivamente e dai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Tiesa della Montagna. Nella stessa mattinata sono stati effettuati alcuni accertamenti e verifiche sul corretto funzionamento della gru e dei comandi a distanza del braccio meccanico. La tragica notizia, alco di pochi minuti, si è diffusa in tutto il paese. Sandro Gusmeroli era molto apprezzato, oltre che per le sue doti professionali, per l'impegno profuso nell'associazionismo che si occupa di disabilità. Siamo molto scossi, spiega il sindaco Fabrizio Trivella. A Talamona Sandro era molto conosciuto. Tutta la cittadinanza, aggiunge Trivella, è vicina alla famiglia. Gli infortuni, conclude il sindaco, si confermano una piega sociale. Per questo è importante proseguire il cammino nel segno della prevenzione.